e adesso con un altro video io sono Isame e oggi vediamo una bicicletta particolare rispetto a quelle che vediamo sul canale perché è una bicicletta molto leggera è una bicicletta più che altro da utilizzare come pedalata assistita anche se in realtà arriva con l'acceleratore ma come vedi l'acceleratore non funziona come acceleratore ma come walk assist quindi per trascinare eventualmente la bicicletta in salita o su una rampa non solo ovviamente la pv y h 500 pro non avendo il sensore di coppia ma il sensore di pedalata questo acceleratore walk assist ci permette di partire in salita e iniziare a pedalare facilmente d'altra parte una volta sbloccata questa bicicletta che adesso vedremo anche come si fa purtroppo il walk assist si trasforma si in acceleratore d'altra parte non parte non fa partire il motore se la bicicletta non è in movimento la bicicletta a 5 modalità di assistenza o limiti di velocità una volta che da sbloccata come vedi adesso sto muovendo il pedale a vuoto mi assiste fino a 20 25 chilometri all'ora ebbene adesso vediamo la velocità massima della pv y h 500 pro ti faccio notare però che la bicicletta non parte con l'acceleratore da fermo infatti devo dare una piccola pedalata finché prende un po di velocità poi dopo di che posso usare l'acceleratore ti faccio notare anche che l'acceleratore non è legato ai livelli o alle velocità massime di assistenza funziona indipendentemente una volta data la pedalata è bellissimo il display multifunzione lcd colorato che viene comandato tramite questi pulsanti per sbloccare la bicicletta molto facile basta premere tenere premuto il bottone più e meno e abbiamo solamente due menu il menu per cambiare chilometri all'ora in miglia all'ora e per passare al secondo menu abbiamo la modalità conforme col regolamento europeo con di 25 chilometri all'ora senza acceleratore solo col walk assist per cambiarlo basta schiacciare il bottone i entriamo nell'opzione lo cambiamo in 32 chilometri all'ora e confermiamo tenendo premuto il bottone i adesso uso l'acceleratore come vedi è disabilitato a meno che non pedalo un pochino prendo un po di velocità e adesso inizia a funzionare e arrivare gradualmente come vedi a 30 chilometri all'ora la cosa che mi ha sorpreso che come vedi è salito gradualmente in realtà su strada sul rettilineo riesce ad arrivare veramente a 30 chilometri all'ora in questo momento sono a 26 chilometri all'ora con il tachimetro di bordo e 28 con l'acceleratore quindi 28 30 direi che il tachimetro di bordo è preciso rispetto al gps siamo a 31 chilometri all'ora con l'acceleratore la massima velocità l'assistenza invece funziona con i limiti di velocità infatti adesso mi sta assistendo a 7 chilometri all'ora perché sul livello 1 sono sul livello 2 e mi assiste a 14 15 chilometri all'ora livello 3 siamo a 20 chilometri all'ora e livello 4 siamo a 24 chilometri all'ora 25 chilometri all'ora invece questo è il livello 5 massima velocità con l'assistenza ovviamente in questo momento sto pedalando praticamente a vuoto e la bicicletta mi sta assistendo fino alla velocità massima che abbiamo visto anche con l'acceleratore che è di 31 chilometri all'ora il motore di questa bicicletta è da 250 watt nominali alimentato da una batteria da 10 ampere ora che si trova qui all'interno del telaio non si può ricaricare a parte ovviamente si può rimuovere eventualmente se volessi cambiare la batteria e la batteria da 360 watt ora quindi più che sufficiente per alimentare questo motore ad alta velocità non ad alta coppia infatti non ha performato tantissimo nella solita salita ad altra parte come vedi questa bicicletta è provvista di un cambio a 21 rapporti con tre corone davanti e sette pignoni dietro ma vediamo come se la cava nella solita salita soltanto con l'acceleratore in questo momento sono a metà salita e siamo a 18 chilometri all'ora sta scendendo la velocità siamo a 17 chilometri all'ora e sicuramente a questo punto se non stessi filmando l'avrei aiutata ma in questo momento stiamo facendo questo esperimento per vedere e confrontarla eventualmente nella solita salita sempre per le stesse biciclette siamo nel punto più ripido della solita salita e siamo a 16 chilometri all'ora quindi il motore non ha tantissima coppia cosa che mi aspettavo sicuramente e specialmente per il peso della bicicletta vista anche la batteria e il motore da 36 volt ok proviamo adesso la solita salita con 90 chili a bordo vai a copo sono a 29 28 25 la sta aiutando però prova a non aiutarla solo con l'elettrico sull'acceleratore ai 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 sta scendendo sono sul punto più ripido 18 17 16 però sta raggiungendo la cima però con molta fatica quanto adesso 15 14 niente aiuta la poveretta va bene adesso proviamola in pedalata assistita nella solita salita sul livello 5 quindi la massima assistenza però come puoi notare in questo momento sto pedalando praticamente a vuoto e non mi sta non la sto aiutando prova ad aiutarla in questo momento cambiando scendendo sul rapporto più piccolo e l'aiuto senza spingere tantissimo poco solamente appoggiando il piede sul pedale e siamo a 17 chilometri all'ora discreti quindi non è una bici per delle salite ripide o delle salite in generale ti aiuta nelle salite specialmente che hai 21 rapporti però comunque non è per la salita è una bicicletta da piano quindi questa ricetta consigliata per chi vuole utilizzare una vera bicicletta con una assistenza anche in salita è comoda visto che abbiamo il cambio a 21 rapporti ti aiuta e non fai fatica d'altra parte non è la bicicletta classica che vedi su questo canale dove ti sdrai acceleri e la bicicletta va mi sono piaciute tantissimo le gomme ti senti molto stabile sia sul rettilineo ma anche in curva ma questo grazie ovviamente anche alla dimensione della ruota da 27 pollici e mezzo e alla forcella b ammortizzata davanti che è regolabile sia come ritorno quindi come durezza ma eventualmente anche bloccabile se lo desideri dietro non avendo nessun ammortizzatore ovviamente con questo sellino un pochino rigida ad altra parte comunque i due ammortizzatori davanti fanno il loro dovere e ovviamente grazie anche al peso di questa bicicletta che pesa solamente 21 kg quindi molto leggera per essere una bicicletta elettrica mi piace tantissimo il design è molto carina da vedere la caratteristica principale di questa bicicletta che secondo me conviene comprarla per quello proprio è la leggerezza molto leggera infatti con assistenza zero quindi in questo momento non mi sta aiutando assolutamente il motore molto facile da guidare anche senza motore a differenza di tante altre biciclette che sono più pesanti questa ha anche 21 rapporti quindi potresti veramente affrontare qualsiasi salita anche senza nessuna assistenza del motore questa bicicletta non è pieghevole d'altra parte se la vuoi trasportare abbiamo la ruota davanti a sgancio rapido per quanto riguarda i freni abbiamo un doppio freno a disco meccanico davanti e dietro e devo dire che la frenata di questa bicicletta non mi ha impressionato tantissimo la bicicletta molto silenziosa i freni sono meccanici a disco funzionano abbastanza bene ho visto di meglio sicuramente come freni ma direi che non posso lamentarmi molto carina la luce a led davanti integrata nel telaio ma nella confezione ti danno anche un catarifrangente che potresti montare sul manubrio davanti e un altro anche dietro sulla parte destra del manubrio abbiamo il cambio dietro a bottone molto comodo sulla parte sinistra invece abbiamo il cambio meccanico delle corone davanti per quanto riguarda l'impermeabilità di questa bicicletta dichiarata ip66 quindi poi viaggiare sotto una leggera pioggia non puoi lasciarla sotto la pioggia non la puoi immergere e il carico massimo sopportato e di 120 kg con la pv y h 500 pro arriva un manuale di istruzioni tutto in lingua inglese purtroppo non ci sono delle fotografie a parte queste per far vedere come si montano i pedali ma tutto spiegato a parole cosa che secondo me dovrebbero migliorare ti danno anche qualche strumento per montare i pedali e raddrizzare fissare il manubrio il caricabatterie in dotazione da 36 volt quindi carica la batteria 42 volt in meno di cinque ore il connettore edc 5.5 2.1 che si connette qui a lato della bicicletta per caricare la batteria come al solito ti lascio il link e coupon sconto a questa bicicletta nella descrizione del video devo essere sincero ho chiesto a pv y di abbassare il prezzo un po di più rispetto al coupon sconto che mi hanno dato perché secondo me 800 euro scontati per questa bicicletta è troppo ma purtroppo non sempre ci riesco ecco segui il canale telegram eventualmente e se ci sono delle occasioni decidessero di abbassare il prezzo offrire un coupon sconto maggiore troverai sempre le migliori offerte su bici e monopattini sul canale telegram di questo canale che trovi qua sovraimpresso sullo schermo se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti nel frattempo ti saluto e ciao alla prossima